Ciao ragazzi insieme ai Boku Gamers, io sono Tzuki e io sono Ryozon e benvenuti con questa roba amichevole con gli iscritti. Oggi affronteremo un sfidante del gruppo Facebook di Katzenzoladri Team, che vi lasceremo il link in descrizione, ovvero Gennaro Auritano. Benvenuto su vostro canale, Gennaro. Sto gli mando alla stanza e Ryo... Allora, vi spiego brevemente le regole che sono tantissime e complicate. Skill S30. Esatto. Sì, niente limite di overall, userò ancora la rosso-blu perché l'altro team ancora non ho, come vi ho già detto, non livellerò le skill finché non saprò di che morte devo morire. E quindi, niente, continuo a usare questa e vediamo un po' come va, non ho capito la idea di come giocherà lui. Nel frattempo, niente, fateci sapere un po' come vi stanno a quest'anniversario, se avete pullato sui nuovi Michael e Raffa e dal SuperDF. Noi stiamo ponderando un po' il da farsi, ho quelle 150 dreamball tonde tonde che... Io ci ho buttato un paio di singole e ho trovato Tsubasa 2.0. Gigi Azzucchi che in quest'anniversario sta riempiendo i DF, almeno... almeno quelli. Uno tra questi... ah, mazzo. Vedo già che supera il milione. Dicevo, uno tra questi DF mi servirà allo scopo, alla fine dell'anniversario, mi auguro. Ok, è sceso, mi sta sopra di 32k, giusto per non farci passare l'abitudine. Ah, beh, ci falare o me? Penso di sì. Non ne sono molto sicuro, però... Un dubbio pervade la mia mente. Allora, penso che avrà Giappo Verde mista a Straniera Blu. Forse Straniera Blu, sì. Penso che... È l'unico mix che si può... A meno che non sia sfortunato come noi, quindi stiamo mixando due uguali. No, mamma mia. Vediamo un po' se riesco a parlare senza morire. Vediamo un attimo. Siamo curiosi. Questo è il mio solito team, raga. Siamo curiosi. Giappo Verde con Stranieri Bruni. Mamma mia, raga. Qua sono schiaffi, eh? Eh, sono schiaffi brutti qui, mi sa di... Buongiorno. Eh, buongiorno. Per lui, per me no. Eh, ma anche quando esce il video. Per me mica tanto. Ok, ha messo il tiro combinato con Yuge e l'1-2. Perché fa tu c'è anche Sawal. Non rinforzi. Altra pugnalata al cuore. Dobbiamo avanzare con Aoi. Comunque dicevo... Io non posso lamentarmi in quest'anniversario. Perché comunque sto prendendo dei giocatori molto interessanti dalle singole. Cose che veramente sono... Non so se... Cose davvero improbabili. Eh, però... Devo vedere che cosa ne tolgo pure dal cilindro, insomma. Quindi non posso assolutamente l'avanzo, sono felice. Il problema è che tu adesso hai matchato Wairan e hai il tiro al volo di raggio. E allora, che sai... Invoco il sacro potere dell'RNG. Vieni qui, aiutalo. No! Ti prego, perché... Dai! Cioè, ragazzi... Non si può... Cioè, cavolo, non si può che ogni volta che c'è un minimo download di qualcosa che aggiungono, si frigga il gioco. Cioè, vabbè, quello era ovvio. Cioè, veramente... Ma poi solo a te, perché a me non li fanno questi problemi. Non so che devi fare un bel reset ai dati di Fabric. Ma non c'entra niente, ho già disinstallato l'app, avevo cancellato le cartelle, ma non... Cioè, basta. Dai! No, io un altro video così non lo faccio. Cioè, dai! Non è possibile! Cioè, non si può giocare così. Cioè, stava andando bene. Stava andando benissimo. Qual è il problema, veramente, ragazzi? Non è possibile, certo. Più che altro non è tanto per noi. Perché ci dispiace, perché comunque è una partita con i nostri ciocobini. Non possiamo fare così. Sì, ma non è possibile, certo. Ma è un problema della club, non può essere un problema mio. Cioè, ho cancellato il gioco, l'ho reinstallato. Non è che un giorno va bene, il giorno dopo scarica i dati e se ne va a fan piffero il gioco. Cioè... Cioè, non vediamo neanche il tiro di Surimachi. No, ma non vediamo nulla. Cioè, non si può così. Ma le tessi... Io non ho paura. Io sì, ma nessuno di questi è buono. 28K che è arrivato. No, diventi notti. Diventi notti, per sì. Ma è normale che sia così. Cioè, non si può, no? Vabbè, dai. Allora, voi vedrete... Eh, noi non abbiamo visto niente, quindi... Boh... Non sappiamo cosa fare. Faremo noi le animazioni a mano, tra in avanti. Ma, per favore, certo. Stiamo arrivando davvero a livelli vergognosi. Guardate. Che poi stava andando bene. Oggi arriva il VF. Nuovo. Sì, come se eri cadati nuovi. Se ne va tutto in manoro ogni volta. Cioè, non è possibile. Non si può giocare così. Eh, non è colpa del telefono. Abbiamo lo stesso, Ietsuki. Eh, infatti a me non lo fa il problema. Lo fa solo a lui. Quindi non può essere un problema del telefono. Altrimenti l'avrebbe fatto a entrambi. Tra l'altro io dopo dovrò giocare a una partita, quindi vedremo come andrà il stesso. Io rido per non piangere. Rido per non piangere. Rido per non piangere. Io... Piango per non ridere. Dai, lo facciamo. Vai Tsubasa! Paracanutati come fosse un paracanutte giapponese invisibile. Perché abbiamo saltato per un errore di lettura all'animazione noi. Perché noi siamo professionisti alla club. Ci sono dei ban con l'animazione e noi la cancelliamo. Così, sì. Come gli SSR dall'account di Rio dopo questo video. Così impara a criticarci. Dai! Cioè... Cioè... Io veramente, ragazzi... Non si può giocare così... E vi giuriamo che abbiamo provato di tutto per risolvere questo problema. Sì, ho detto, ho cancellato l'app, ho cancellato tutti i dati, ho cancellato le cartelle. Cioè, proprio ho fatto un'installazione ex novo. Oppure la mamma della club hai cancellato nel... Esatto. Forse è per quello che se la sono presa. È possibile. Forse volevano bene alla mamma. Eh. Eh! Eh! Cosa fai? C'è la extra. Sì, ho visto. Dai, una vogliamo vederne! Dai! È partita però, perché una sola animazione l'avevo già vista. No, due ne abbiamo visto. Io non ho parole. Sembra tipo di stare a giocare... Quei cosi manageriali dove vedi solo le palle... No, ma poi non riesci neanche a seguire il ritmo. Tutto gli è tutto. Cioè, ma... Come si fa a giocare così? Dai! Un santo pazienza che abbiamo... Come? Cosa... Cioè, ma lo vedete? Vabbè. Ma cosa gioca a fare così? Che vado a premere per fare il tiro e passa la palla. Ma cos'è? Ma cos'è? Dai! Che ero sotto porta al me... Tanto è inutile che mi lamento. È sempre il solito disco rotto, intanto. Ok. C'ha Napoleon, quindi non posso neanche fare entrare Kelly. Posto. Che ero. E' anche la dopo quella. Eh, non c'è molto che può fare Non vedo così tanto Intanto non vedo nulla quindi Non riesco a giocare a prescindere È come se la club voglia precluderti Ogni possibilità di vittoria Meggio per lei è una certa Che arriverà il giorno in cui mi stancherò Come si fa a giocare così Zucchi, cioè onestamente Un conto è non prendere i giocatori Quello lo posso sopportare Ma non riuscire a giocare così Poi tolgo i contrasti Li ho tolti quattro volte E continuo a mettermi l'animazione dei contrasti così Cioè li ho disattivati quattro volte E continuo a rimettermi È chiaro che l'app ha problemi Cioè Non si può giocare così Posso sopportare di non prendere i giocatori nei banner Posso sopportare l'RNG Questo no, dai Cioè sta diventando una cosa ridicola Sta diventando davvero ridicola Cioè Cioè una volta passi Ma è già il secondo video che capita così Non esiste Cioè 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 C'è solo una risoluzione a questo problema Cioè Cioè Questo è un problema dell'app Io non c'entro nulla Anche perché è l'unico gioco che fa così Non vediamo niente Ah è riuscita a passare Dai raccontami un po' di te durante queste Questi screen blu bellissimi della partita Sono bene E' vero E' vero E' vero Che puoi fare Andando con il nostro Nostro spot Stavo a presto di mettere la schermata fissa Così Da un po' di te Commentiamone quello che succede Che bello Tanto l'effetto è quello Stupendo Adesso salta l'animazione Che tanto segna Sì Che sono lì Vediamo un po' Questa è la canzone Di getta Ragazzi Devo stemperare Perché Rio è abbastanza incavolato Rio ha due secondi Dal disinstallare il gioco E ha Altro che ha Troveremo una soluzione Se a qualcuno è capitata La stessa cosa Perché la sfiga L'abbiamo sempre noi Su queste cose tecniche Ci può far sapere Come è risolto Eventualmente Grazie Della pensione Che noi ci abbiamo provato Due volte E niente Continua a ripresentarsi C'è Visto chiaramente Visto chiaramente Che stavi tirando Che ve lo dico a fare Che ve lo dico a fare C'è ha fatto proprio il blup Di quando lo schiacci Che ve lo dico a fare Che ve lo dico a fare Eh beh certo Tanto adesso La prendiamo E con l'intercetto Sa che davvero Ci dovremmo prendere L'abitudine Di Di cancellare La cache Non c'entra niente La cache Non c'entra Assolutamente Niente Non c'entra proprio niente È un'app Programmata Coi piedi Per essere gentile Stavolta una fretta battuta Ma non è esattamente Il momento adatto Boh non so che battuta Ah sì Non c'entra proprio Gentile Ah Stavolta una subasa Giusto Eh tanto noi Non vedremo mai nulla Non stiamo capendoci nulla Io ti mando gli sticker Non capisco nulla Guarda una persona normale Avrebbe regepitato Sì ma che pro Cioè lui non c'entra nulla Non è colpa assura Eh ma dico Forse è capitata in online Al di là Della amichevole Che c'è Addirittura Cos'è successo Si è sbloccata l'animazione Cos'è successo Uh tre adesso Siamo a tre Facciamo un gioco Contiamo tutte le animazioni Tanto è finita la partita Eh vabbè Infatti è finita la partita E dovranno scrivere adesso Quante animazioni Ci hanno fatto vedere Io dico tre Boh Bella partita Arrivando le baguette Le baguette E niente Ci dispiace che questo video Sia uscito così Purtroppo Non ti perdono Stai diventando un'abitudine ormai Ci abbiamo provato Diverse volte Quindi ripeto Il L'appello Accorato No perché è anche difficile giocare Così non si capisci nulla Si Allora io Poi vai a tirare La primo perdono Riformulo l'appello Accorato A chiunque Abbia avuto Questo Questo problema Se per caso È riuscito a risolverlo Ah il primo gol L'ha fatto Rimpallata E ha segnato lo storm Meraviglia Ce l'ho anche perso Per forza Non c'era l'animazione Ci ha fatto vedere Solo Genzo Esatto Quindi praticamente O l'ha parata Genzo L'ha respinto Oppure ha preso il palo È possibile Ce lo racconterà lui Quindi Tutto molto bello E niente Prima del prossimo Bellissimo Bug Video Di Captain Tsubasa Dream Team Che vi invita Seguirci su tutti i nostri Cofi di social Che troverete Il link in descrizione Iscrivetevi al nostro server Disco Iscrivetevi al canale Condividete Ti ringrazio E trovate la campanella Supportateci con tutte Queste azioni Possete trovare I nostri amici Della comunità italiana Di Captain Tsubasa Da dentro Su facebook E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ehi tu Sì proprio tu Non puoi chiudere il video Senza aver messo like E senza condividerlo Non vorrai mica Far arrabbiare Bocco Non sei ancora iscritto Al canale? In alto Troverai il nostro Magnifico trio In versione ridotta Cliccaci sopra E attiva la campanella Non preoccuparti Non attiverà Stranessone idee Ma ti avviserà Non appena sarà disponibile Un nuovo video In alto Nei due lati Invece Troverai due video Scelti apposta Per te Con le mie zampette Grazie per aver Seguito fino alla fine Ci veniamo Alla prossima